Mi occupo di contatori e metering. L'aspetto che piace più del mio lavoro è che sei sia in ufficio che all'esterno a contatto con i clienti e ogni giorno è qualcosa di nuovo perché è una situazione nuova. Mi ha spinto a scegliere questo mestiere il fatto della corrente che mi affascina una cosa che non vedi ma c'è e puoi metterla in pratica con determinati contatori che fai vedere il consumo e tutto quanto. Una mia giornata tipo parte con organizzare il magazzino, vedere gli interventi che ci sono durante il giorno tra pasti, lettura, solo contatore e roba semplice. Una sostituzione di un contatore, una posa nuova per una casa nuova, un impianto fotovoltaico o per un guasto di un apparecchio che dobbiamo sostituire.